E' uscito alle 10.30 dopo 7 ore trascorse nella caserma a Piermani di Civitanova a Graziano Palestini, l'uomo che intorno alle 3 di notte ha ucciso a bastonate e coltellate l'ex moglie Maria Pia Bigoni. Palestini, 76 anni, è stato condotto nel carcere di Montacuto. E' stato arrestato dai carabinieri in via Mameli. I militari lo hanno trovato a pochi passi dal corpo della moglie, che era riversa al suolo in una pozza di sangue. Il terribile gesto sarebbe dovuto a dissapori di natura economica. In passato l'uomo aveva già minacciato la 66enne e aveva cercato di strozzarla nel gennaio scorso.